Amici di Youtube, bentrovati da Marco Ligori. Grave lutto per Giorgia Meloni, nonché per tutta la politica italiana. A 62 anni ci lascia un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla politica in particolare, alla politica di destra. A 62 anni ci lascia il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea Ugello. Secondo quando si apprende il parlamentare, era malato da tempo e lo ricordiamo anche per essere stato sottosegretario alla pubblica amministrazione nel governo Berlusconi ad annunciare la sua morte. È stato Ignazio Larussa che ha chiesto un minuto di silenzio all'aula di Palazzo Madama. I funerali di Andrea Ugello si sono svolti nella giornata di oggi nella Basilica di Santa Maria in Araceli a Roma. Il primo avanti di Marco Ligori, con grande dispiacere, ricorda Andrea Ugello, un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla politica di destra e fa le più sentite condoglianze alla famiglia del senatore e anche alla Premier. Giorgia Meloni, amici di Youtube, io vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video. Ciao a tutti. Grazie.